Nel corso del 2020, di tutte le compravendite di abitazioni da parte di persone fisiche, il 51% è stata fatta con mutuo, mentre il restante 49% è stata fatta in contanti. Una situazione di quasi parità. Questo dato mi ha abbastanza sorpreso, perché nel 2020 i tassi di interesse sui mutui sono stati davvero bassi, quindi mi sarei aspettato che una percentuale maggiore di persone avesse scelto di acquistare facendo mutuo piuttosto che acquistare in contanti. Prima di acquistare un immobile, sia che lo scopo sia quello di abitarci o di mettere l'immobile a reddito, quindi fare un investimento immobiliare, è sempre opportuno fare una valutazione tenendo in considerazione sia le proprie circostanze, sia la convenienza economica di acquistare l'immobile rispetto a soluzioni di investimento alternative. Una volta deciso per l'acquisto, la stessa valutazione andrebbe fatta anche per decidere se utilizzare il proprio denaro oppure prendere in prestito i soldi da una banca attraverso un'operazione di mutuo. La scelta tra acquistare un immobile in contanti o fare un mutuo non è così scontata, perché entrano in gioco vari fattori. Ad esempio, occorre tenere in considerazione l'aspetto psicologico. Molte persone provano disagio ad avere debiti, preferiscono togliersi subito il pensiero e non dover più nulla a nessuno. Altri non vogliono avere un impegno mensile anche se riuscirebbero a sostenerlo tranquillamente. Altri ancora semplicemente non vogliono avere a che fare con le banche. Quale che sia il motivo psicologico, in questo video non tratterò questi aspetti, semplicemente perché al riguardo c'è poco da dire. Ognuno ha il suo modo di vedere le cose. E sicuramente se avere un debito causa in qualche modo disagio, beh, ognuno deve decidere per sé ciò che è meglio per lui. Anche in questi casi, comunque, sarebbe opportuno non tralasciare l'aspetto finanziario per poter fare una scelta che sia quanto più consapevole possibile, che quindi tenga in considerazione sia gli effetti psicologici ma anche quelli finanziari. In questo video mi concentrerò quindi proprio su questi ultimi, quindi vedremo se e quando conviene acquistare casa in contanti oppure con mutuo. Prima però ti ricordo di mettere mi piace a questo video e di iscriverti al canale. In questo modo sostererai il canale e mi aiuterai a farlo crescere e a produrre contenuti sempre nuovi e utili. Le differenze tra acquistare un immobile con mutuo o in contanti sono sostanzialmente due. Acquistando con un mutuo ovviamente ci saranno dei costi aggiuntivi rispetto a un acquisto in contanti. Avremo i costi per l'istruttoria del mutuo e per la perizia. Avremo anche i costi notarili per l'atto di mutuo con le relative imposte. Ed ovviamente dovremo pagare un tasso di interesse sulla cifra che ci viene data in prestito. Di contro acquistando con un mutuo il capitale che hai resterà a tua disposizione. Quindi potrai utilizzarlo per qualche impiego alternativo o investirlo in qualche modo per guadagnarci dei soldi. Per l'acquisto in contanti invece si avrà un netto risparmio dei costi perché tutte quelle spese e gli interessi passivi non avendo preso a prestito nulla non saranno dovuti. Però non avrai più a disposizione il tuo capitale finanziario. Quindi in sostanza le variabili chiave da prendere in considerazione sono la differenza di costi e le modalità di impiego alternativo del capitale. Ecco potremmo in un certo senso vederla in questo modo. Utilizzando la somma direttamente per acquistare l'immobile è come se investissi quell'importo per ottenere un rendimento pari al risparmio ottenuto non facendo il mutuo. Viceversa facendo un mutuo dovessi trovare un impiego alternativo per il capitale che possa in qualche modo remunerarlo preferibilmente con un rendimento superiore al costo del mutuo. Facciamo un esempio concreto per illustrare questo concetto. Immagina che hai deciso di acquistare un immobile dal costo di 125.000 euro per fare un investimento. Hai a disposizione il denaro che occorre ma sei indeciso se sia più conveniente acquistare utilizzando un mutuo di 100.000 euro o acquistare direttamente in contanti. Mettiamo a confronto le due soluzioni. In entrambi i casi diventerai proprietario di un immobile dal valore di 125.000 euro ed in entrambi i casi metterai al reddito l'immobile quindi ne ricaverai un profitto. Nel caso di acquisto con soldi tuoi dovrai sborsare i 125.000 euro necessari per completare l'acquisto mentre nel caso di acquisto con mutuo sborserai solo 25.000 euro mentre i 100.000 euro li prenderai a prestito dalla banca. Ovviamente questi soldi non saranno gratis. La tua banca ti ha comunicato che per un mutuo a 20 anni dovrai pagare un tasso di interesse dell'1,35% più spese iniziali pari a circa 1.300 euro alle quali dovrai aggiungere i costi del notaio per il solo mutuo che stimiamo in circa 1.700 euro. Ovviamente ha senso fare un confronto esclusivamente sulle differenze tra le due soluzioni quindi non prendiamo in considerazione né l'immobile in sé perché si tratta dello stesso immobile in entrambi i casi. Non prendiamo nemmeno in considerazione la scelta di acquistare l'immobile perché si tratta di qualcosa che deve avvenire a monte della valutazione che facciamo adesso e non prendiamo in considerazione neanche il reddito generato grazie all'immobile perché sarebbe lo stesso in entrambi i casi e neppure la quota di 25.000 euro che in entrambi i casi andrà comunque pagata in contanti. Resta quindi da capire se conviene utilizzare questo capitale di 100.000 euro per pagare direttamente la casa e quindi risparmiare i costi del mutuo oppure se è più conveniente fare un mutuo pagando le relative spese e quindi avere a disposizione il capitale di 100.000 euro da investire in altre attività. È chiaro che non investendo in alcun modo questi 100.000 euro non si avrà alcun beneficio economico da questo capitale e quindi in questo caso senza ombra di dubbio converrebbe acquistare in contanti risparmiando tutte le spese relative al mutuo. Investendo il capitale però il discorso potrebbe cambiare. Se si riuscisse in qualche modo a ottenere un rendimento che superi i costi del mutuo si avrebbe un guadagno pari alla differenza tra il rendimento dell'investimento stesso ed i costi del mutuo. Ma la domanda è esiste un investimento che ci assicuri con ragionevole certezza per un periodo di tempo comparabile alla durata del mutuo un rendimento superiore ai costi del mutuo stesso? Molto chiaramente dipende dal costo del mutuo. Per calcolare il costo del mutuo ho preparato questo foglio di calcolo dove inserendo i pochi dati tratti dall'esempio precedente viene fuori che il costo totale del mutuo è pari a poco più di 17.600 euro. È chiaro che nel tempo le condizioni dei mutui possono cambiare quindi in descrizione trovi il link a questo foglio di calcolo in modo da poter fare diverse prove per diversi importi, tassi e durate. Non resta quindi che trovare un investimento che ci permetta di ottenere un rendimento superiore al costo del mutuo. Come prima cosa definiamo il nostro orizzonte temporale che sarà pari a 20 anni, cioè alla durata del mutuo. Che tipo di investimento scegliere? In realtà potremmo scegliere un qualsiasi investimento in grado di assicurarci nel tempo un rendimento netto superiore al costo del mutuo. Ad esempio potremmo pensare di acquistare un BTP che scade tra 20 anni. Io personalmente però con un orizzonte temporale così lungo non avrei dubbi. Investire nel mercato azionario. Prima di cambiare video pensando che questo tipo di investimento non fa per te perché è troppo rischioso ti chiedo di fermarti un attimo e starmi ad ascoltare ancora un po'. Investire nel mercato azionario mantenendo l'investimento per un periodo di tempo così lungo non è poi così rischioso come si potrebbe pensare. Ti spiegherò anche il perché. Il rischio di un investimento è normalmente misurato con la volatilità del rendimento rispetto al rendimento atteso a un anno. Prendendo come riferimento i dati dell'MSC World che è l'indice sull'azionario internazionale dal 1970 al 2018, il rendimento composto è stato di oltre il 9% anno. Però a seconda degli anni si sono avuti rendimenti annui anche oltre il meno 20% o il più 20% con picchi positivi e negativi di oltre il 40%. Questa variabilità del rendimento è proprio ciò che identifichiamo con il rischio dell'investimento. Questi risultati però sono riferiti a periodi di un solo anno. Cosa succede se allarghiamo l'orizzonte temporale preso in considerazione? Ad esempio se prendiamo un periodo di riferimento di 20 anni, cioè pari alla durata del mutuo ipotizzato, a quanto ammonta il rischio? Quello che ci si aspetta è che prendendo in considerazione periodi di investimento più lunghi, la volatilità e quindi il rischio dell'investimento si abbassi. Cioè man mano che il periodo di riferimento preso in considerazione si allarga, avremo picchi positivi e negativi sempre meno estremi, che tenderanno sempre più a quello che è il rendimento medio. In particolare per l'indice che vi ho accennato in precedenza, si ottiene che prendendo come riferimento un periodo di 20 anni, si ha che la media dei rendimenti annualizzati per un periodo di 20 anni è del 9,87%, con un rendimento minimo per 20 anni del 3,74% annuo ed un rendimento massimo del 14,57% annuo. Quindi per un investimento a 20 anni su un fondo indicizzato all'azionario globale, il rendimento medio annuo è stato di oltre il 9%, mentre nella peggiore dell'ipotesi avresti avuto comunque un rendimento annuo positivo pari al 3,74%. Questo risultato si ottiene per un fenomeno chiamato regressione alla media, cioè nel lungo periodo la media dei tassi di rendimento annui tende a convergere verso il tasso di rendimento medio di mercato. Andando ad inserire questi dati nel foglio di calcolo, è possibile vedere a quanto ammonterebbe il valore futuro del capitale investito. Con le ipotesi fatte in precedenza relative al costo del mutuo, possiamo vedere che effettivamente anche utilizzando come rendimento medio annuo il peggior rendimento medio annuo storico su un periodo di 20 anni, cioè pari al 3,74%, si otterebbe comunque che è più conveniente acquistare casa con un mutuo e di vestire il denaro che sia da parte. Ovviamente le situazioni di mercato possono cambiare, sia in relazione al costo del mutuo e sia in relazione al rendimento degli investimenti oppure al tipo di investimento che si vuole fare a seconda della propria avversione al rischio e della situazione che c'è sui mercati. Per questo motivo in descrizione trovi il link al foglio di calcolo che ti ho mostrato. È gratuito e puoi scaricarlo liberamente ed utilizzarlo in modo da poter adattare i calcoli alla tua specifica situazione. Per questo video è tutto, ti ricordo di mettere mi piace e di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. Grazie per la visione e ci vediamo al prossimo video.